La collezione 3 mm propone un'estetica essenziale che conferma come le forme semplici siano sempre più eleganti. Un foglio ad acciaio lucidissimo, magicamente sospeso, sottile come una lama. La collezione 3 mm con il suo tratto futurista trasforma un gesto quotidiano in una sensazione polisensoriale. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS